Questa mattina in Tribunale a Sondrio il giudice Fabio Giorgi ha conferito l'incarico esplorativo ad un esperto di ingegneria aeronautica per fare piena luce sulle cause della tragedia aerea avvenuta il 31 luglio del 2015 in Valmasino e costata la vita ai tre componenti dell'equipaggio dell'elicottero e curei il B3 della società elitellina. A perdere la vita nello schianto il pilota Agostino Folini 50 anni di Chiuro, il motorista Stefano Olcelli 28 anni di Buglio in Monte e il tecnico di volo Marco Gianati 33 anni di montagna in Valtellina. In particolare il consulente Pietro Roveda scelto dal giudice Giorgi avrà 20 giorni di tempo per valutare se il DECO, il registratore digitale dei dati sul funzionamento del motore, possa fornire indicazioni utili a fare piena luce su cosa sia accaduto quel maledetto giorno d'estate nei cieli valtellinesi. Un accertamento specifico per chiarire se l'incidente sia stato provocato da un'avaria al motore piuttosto che da un errore umano dovuto al cambiamento repentino delle condizioni meteo. Nel caso in cui l'ingegner Roveda accertasse la possibilità di recuperare i dati dal registratore digitale, un'azienda specializzata verrà subito incaricata della loro lettura.